Quando si parla di rappresentanza di genere all'interno delle istituzioni è necessario partire dai dati. Come consigliera di parità ho predisposto un'indagine conoscitiva dei dati della rappresentanza di genere all'interno delle istituzioni calabresi e nei comuni il risultato della presenza di genere è stato il seguente a fine ottobre. Le donne sindaco erano pari a 32 per un valore percentuale dell'8,24%, le donne consigliere erano 1840 per un valore percentuale del 37,84%, le donne assessore erano 355 per un valore percentuale del 33,97%. Il dato a noi è sembrato subito interessante perché fermo restando il dato aggregato che è opposto all'attenzione ora rispetto al quale poi lo abbiamo disaggregato in un lavoro un po' più completo, in un'indagine che renderemo pubblica se volete anche materia di studio prossimamente, nel dato aggregato avere una rappresentanza all'interno dei consigli comunali pari circa al 40% e di assessore superiore al 30% significa una manifestazione chiara delle donne di affacciarsi alla vita politica della regione, fermo restando infatti che per quanto riguarda gli assessori circa il 91% dei sindaci sono uomini e quindi gli assessori vengono da questi definiti e avere il 33% di donne all'interno delle giunte significa che non sempre rispettata la legge del Rio ma comunque prevalentemente adeguata soprattutto nei comuni più piccoli, nei comuni appena sopra i 3000 abitanti nei comuni più grandi il dato diventa sempre più complicato nella sua adeguatezza ora fermo restando questo e fermo restando il fatto che anche la regione Calabria all'interno della sua giunta ha adeguato uno statuto al 30% delle donne in giunta e lo ha rispettato andando nell'ultima circostanza anche oltre ora ci si pone una questione, la regione Calabria può, secondo noi deve, adeguare anche una disposizione legislativa in materia di rappresentanza di genere all'interno del Consiglio regionale tra le altre cose gli viene chiesta dalla legge quadro nazionale, la legge 20 del 2016 il quale chiede appunto che non ci sia una rappresentanza di genere superiore al 60 all'interno delle liste elettorali e che non sia inferiore al 40 all'interno delle liste elettorali in regione Calabria è presente una legge depositata ma prevede una presenza di genere non inferiore al 30% come si capisce bene è necessario disporre un adeguamento anche della proposta depositata o una nuova proposta ma è semplice la sua adozione non comporta spese una legge regionale per l'adeguamento della rappresentanza di genere ma comporta soltanto un adeguamento a un dettato legislativo nazionale questo mi sembra un atto dovuto che la regione Calabria può fare senza che questo lo ribadisco spese per la regione ma per esprimere un rapporto di civiltà nei confronti di un genere quello femminile che all'interno della regione sta diventando sempre più importante perché si è affacciato ultimamente con forza e volontà all'interno dei consigli comunali per dati che noi abbiamo espresso poco prima